Quindi Matteo Renzi sarà rottamato dai piccolissimi, cioè gente in pannolino? Sì, beh, noi stiamo spingendo per riuscire a riciclare anche questa frazione del nostro reflutto che quando un comune raggiunge, come il nostro, Monte Nelle Alpi, l'oltre del 90% delle cose differenziate, anche il pannolino diventa una frazione rilevante. Ma non i pannolini di Renzi? No, assolutamente no, i pannolini per adesso dei nostri concittadini, poi speriamo di arrivare anche ai pannolini, non tanto di Renzi, ma dei cittadini di Firenze. dell'abbadante di Renzi. Esatto. Quindi il comune si chiama? Monte Nelle Alpi, provincia di Belluno. Comune riciclone. Per tre anni consecutivi comune riciclone d'Italia. Quindi 92? Più del 90% e oggi il nostro obiettivo, come dicevo, è quello di abbattere anche il peso di questi pannolini usati. Con un pannolino dell'abbadante di Renzi, in cui è un prodotto di grande qualità, quando è pronto, nell'attivazione di Renzi, nell'attivazione di Renzi, nell'attivazione di Renzi e nell'attivazione di Renzi,